Poi gli altri componenti sono Calcedonio Iacuzzo, Luigi Sceba come componente, gli altri componenti sono Giuseppe Callari che non c'è, oggi Carmelo Guastella di Gela e Giuseppe Ficarra che è un altro componente che per motivi di lavoro non è presente. Per il resto è stata confermata la professoressa Michela Di Ganci come responsabile del calcio femminile, Giovanni Seminara è sempre addetto come fiduciario dei campi sportivi e poi non dimentico più il delegato del calcio a 5 che è Davide Di Bartolo, lo di Caltanissetta, più abbiamo la giustizia sportiva è rimasta la stessa, il giustizio sportivo che è l'avvocato di Proietto e il sostituto che è l'avvocato in Baglione per quanto riguarda la giustizia sportiva. Di altri mi pare che ci siano altri collaboratori che siano il dottore Loporto e a Gela pure. Abbiamo l'indirizzo di saluto da parte dell'AI e poi a Roberto Bellomo perché loro sono più di più come numero, noi siamo di più come numero. Prego, Mim. Grazie, intanto buonasera a tutti, ringrazio Giorgio per l'invito graditissimo del mio ex presidente perché è stato il mio presidente in AIA come sezione, vi porto il saluto del mio consiglio direttivo, qui c'è un rappresentante che è il vicepresidente Vicario Pertalamendo e di tutto il consiglio direttivo degli associati in ISEI. Ho sentito Giorgio nella sua introduzione parlare più volte del concetto di squadra, anche noi come arbitri siamo una squadra alla fine, anche se poi entra un singolo in campo però di fatto siamo una squadra perché c'è un lavoro di squadra dietro. Anche noi viviamo come le società i problemi del territorio, oggi ho avuto l'ultima sorpresa di un altro arbitro che è costretto ad emigrare a Verona, ne abbiamo persi 35 nell'ultimo anno e la cosa che più mi lascia stupito, l'ho detto durante l'assemblea di fine anno, la cosa che mi lascia più stupito è che quando le persone se ne vanno per studiare a Bologna, a Milano, a Torino, ancora ancora lo capiscono, quando se ne vanno a Catanzaro, a Frosinoni, cioè significa che noi veramente siamo messi male e come li cresciamo noi ragazzi e poi li perdiamo a 18-19 anni, così succede nella società e quindi unendo la scarsa natalità al fatto che qui non riusciamo a trattenere le nostre migliori risorse, purtroppo ci troviamo in questa situazione. Io sono contento di essere qua perché, come dice il nostro caro Alfredo, responsabile del settore tecnico arbitrale, Alfredo Trentalange, si cresce più per confronto che per didattica e quindi il confronto con le società è un momento di crescita fondamentale per quanto mi riguarda. L'errore da parte tecnico, da parte dell'arbitro, c'è sempre stato, ci sarà, non lo potremo mai eliminare. Quello su cui non tollererò assolutamente sono i comportamenti e su quello chiedo la collaborazione di tutti, perché lì dobbiamo scambiarci delle informazioni, perché se ci sono dei momenti comportamentali da dover sistemare, dobbiamo evitare le tensioni perché il concetto di squadra deve investire tutti. D'altro canto io spiego sempre agli arbitri che senza società non possono arbitrare nulla. Dico pure alle società che senza arbitri non si può fare nulla. Dico pure a tutti noi che siamo una squadra, che senza impianti sportivi non si può andare a fare le partite, perché poi siamo sempre là. Io come voi vediamo gli impianti fatiscenti, vediamo delle strutture dove veramente i nostri ragazzi, i nostri ragazzi fanno fatica pure ad andarsi a spogliare. Io ho portato un piccolo pensierino che mi fa piacere se metterai qui nella sede della delegazione. Grazie, questo è il nostro Gagliardetto che rappresenta la nostra sezione ed è come se lo avessi dato a ciascuno di voi perché facciamo parte tutti della stessa squadra. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente Vitale per l'invito, forse saluto le mie cariche istituzionali, c'è anche qui il Presidente Prolungiale che mi segue da giovane, quindi sta invecchiando con me. Poi come associazione allenatore posso solo ringraziare questo dialogo che si è aperto con il Presidente Vitale, non che si era mai interrotto, però un modo di confrontarsi ci deve essere. Magari non sempre, però qualche volta bisogna farlo, soprattutto nella sede opportuna, poi ci possiamo vedere anche fuori. Però nella sede è giusto che ci sia un rapporto tra società allenatoria, albiti, che ci sia. La stessa cosa penso che faremo quando prima con gli albiti, perché c'è una verità che riguarda anche gli allenatori, che poi magari se il Danico liderà lui dall'ambulazione delle qualifiche. Io posso solo dire che adesso, quando riguarda le figure degli allenatori, c'è l'obbligatorietà in quasi tutta la società. È una cosa voluta e cercata da anni. Purtroppo in tante società ancora si rappenza con figure non professionali, quindi la crescita non c'è. Solo ai fini statistici posso dire che quest'anno la Sicilia non ha lasciato solo 8 giocatori, 2,5 giocatori svingolati dal parello calcio, tutti gli altri non vanno in un suo posto perché devono solo pagare i genitori. Quindi se la crescita non c'è, perché vuol dire che non sono preparati. Non ci sono le strutture, non siamo in politica, ma non ne parliamo delle strutture che poi sono ancora quelle degli anni 80. C'è anche la possibilità da quest'anno della modifica dell'articolo 66, che è collaboratore all'allenatore di prima squadra, di andare indistinto, naturalmente e regolarmente tesserato, ma non è così il custodio del campo. E quindi su questa cosa magari poi gli albiti circolari lo diranno nei modi, nei termini che faranno. Mi auguro che le professionalità e soprattutto, io dico che il Presidente Provinciale si ha bisogno anche di tutti noi, il miglioramento delle strutture anche nel nostro territorio, perché siamo una provincia un po'. Io ho letto che Gianluca farà calcio femminile, ma con le nostre strutture mi auguro che trovi degli sfogliatoi. Cioè voglio dire, noi dobbiamo anche essere parte di una cosa, perché portare le ragazze che adesso hanno, c'è una grande attenzione, già delle nostre strutture, e le nostre strutture, non so, ma la gente è stata là. Su questa cosa, penso che un po' tutti dovremmo battirci nei nostri comuni, nel loro settore dove abitiamo, se vogliamo un po'. E di difendere quel poco di spazio che abbiamo, perché gli allenatori quando perdono al corpo dell'albito, quando vincono, io gli ho chiesto di vinto, ma ecco per l'albito, no, noi abbiamo vinto, va bene. Quindi per dire la giustificazione che c'è. Quindi mi auguro di rivederci in questa sede, in un'altra sede, noi non abbiamo sede, il Presidente Provinciale cercherà una sede per l'ospedale. Ma comprerà pure lui? Se la società vogliono i tabulati agli allenatori abilitati, Giorgio lo sa, è a disposizione della delegazione, quindi non ci sono problemi di fondo. Quindi ringrazio dell'invito e auguro un buon lavoro a tutta la società e che dobbiamo difendere perché sono poche la società, ma cerchiamo di difendere. Presidente, buon lavoro a tutti. Grazie. Gagliartetto che per il prezioso intervento, è stata in terza categoria. Anzitutto che alla riunione doveva intervenire pure il Presidente Morgana, ma purtroppo per impegni che ha avuto a Roma non è stato possibile e quindi vi porge il suo saluto e quindi gli dispiace di non poter essere presente nella riunione delle società di Caltanissetta, proprio della presura presenza. E poi ho invitato pure, non avevo salutato, la stampa perché non perché, come ha detto qualcuno, vogliamo fare pubblicità, noi vogliamo solo divulgare le notizie proprio per dire quello che vogliamo fare e come lo vogliamo fare. Allora, quali sono le nostre evidenze? I problemi sono diversi relativi all'impiantistica, relative alle difficoltà economiche, relative a... Però dobbiamo anche cercare di fare attività di proselitismo all'interno. Ecco perché noi rilangeremo i progetti del passato nella scuola, perché vogliamo proprio che dalla scuola si possa avere un naturale sarbatoio da cui attingere le forze fresche per istradarle nell'attività calcistica. Altra cosa che quest'anno vorremmo noi stavolare ancora di più è quella di sviluppare ulteriormente l'attività regolamentare con l'Associazione Italiana Arbic. perché, ad esempio, ogni anno ci sono delle modifiche regolamentarie che sono notevole. Quindi abbiamo già in programma con Bellomo e Natale Ferrante come responsabili della provincia, abbiamo già in programma nei prossimi giorni, prima della fine del mese di settembre, una riunione tra la componente del settore tecnico dell'AIA, Denise Salute, dell'AIA e di un mio amico che è il Presidente, di fare un'apposita riunione con i dirigenti e gli allenatori sulle modifiche del regolamento del gioco del calcio con l'ausilio di video e di slide all'uoco preparate dal settore tecnico in maniera tale da rendere ancora più recepibili queste nuove norme regolamentari e avere, perché ad esempio c'è la novità come quella dei provvedimenti disciplinari per l'allenatore che la notifica e i provvedimenti disciplinari che prima non c'era, da quest'anno, da 1 luglio c'è l'ammunizione, l'espulsione e non si parla più di allontanamento dell'allenatore. Poi c'è una modifica importante che, specialmente per coloro che svolgo attività di terza e seconda categoria, è necessaria perché non c'è la presenza anche in prima categoria degli assistenti arbitrali che, così come già era nel settore giovanile scolastico colui che partecipa alla gara come calciatore può svolgere poi successivamente nel corso della stessa la funzione di assistente di parte questo già c'era nel settore giovanile non c'era nel settore di lettare e può prendere parte alla gara e può prendere parte alla gara quindi quando magari il numero è risicato di calciatori allora uno può partecipare e poi può partecipare alla gara o viceversa sa svolgere funzioni di assistente queste sono delle cose che dobbiamo conoscere tutti e noi dobbiamo arrivare a tutti anche in periferia perché è quello del nostro scopo quello di diffondere e divulgare ancora di più le norme tecniche regolamentari come naturalmente anche la preparazione che c'è per quanto riguarda gli allenatori il chiudo è quello della violenza io vi prego di fare opera nei confronti dei calciatori dei dirigenti, di tutti quanti di fare opera proprio di convincimento di persuasione nei confronti di tutti che possano partecipare all'attività che andremo a intraprendere con un spirito di sano agorismo senza trascendere in atti di violenza che non è solo quella fisica ma è anche quella verbale che spesso è più pesante di quella la fisica e quindi quindi fuori razzisti anche perché noi siamo interessati in quanto noi siamo una provincia dove ci sono diverse persone provenienti da paesi extracomunitari e quindi di evitare questi fuori di razzismo evitare perché tutti quanti siamo uguali io avrei terminato perché questi sono alcuni perché vi ripeto voglio sentire voi dalla vostra voce magari facciamo in ordine se c'è qualcuno quello di dare comunque più immagine al comitato a tutte le squadre della provincia stiamo un minuto articolando e capendo come possiamo e poi vi contatteremo in prima persona se c'è qualche spunto qualche idea da parte vostra siamo anche qui per questo propria ah no amore potente da parte lui ci sono no è tanto Grazie.